Fano, bambini, solidarietà. Tre parole che ormai sono un mantra per Sebastiano Nino Fezza, ex cineoperatore di guerra Rai che ormai appesa la cinepresa al chiodo, dopo aver visto purtroppo di tutto e di più, tramite la ONLUS Auxilia spende ogni energia possibile per reperire fondi a favore dei bambini della Siria che vivono nei campi profughi, tragedie e traumi per noi inimmaginabili e che segneranno irribediabilmente le loro vite. Questa volta a dargli una mano nell'impresa il Rotary Club di Fano con un'asta di quadri al Palagey per sabato 21 maggio. 50 quadri di vari artisti e 10 opere realizzate da bambini fanesi a disposizione di chi vuole regalare un sorriso ai bambini siriani. Rotary ha una tradizione di solidarietà e fa della solidarietà il suo filo conduttore. Riuscire a farla con le nostre forze locali per portare il nostro aiuto anche ben oltre confine è una soddisfazione sicuramente. Credo che sabato sera ci sia la possibilità per tutti di partecipare perché il primo pensiero che può venire è Rotary Club, un'asta di quadri, a che portata siamo? Abbiamo deciso di farla, la portata di tutte le tasche, al prezzo di una pizza e di una birra fondamentalmente per ogni quadro. L'obiettivo è quello di partecipare in grande numero, non di piazzare singoli quadri ad alto prezzo. Di nuovo a Fano per un progetto importante sempre sui bambini della Siria che come hai detto prima non sono gli unici bambini che hanno bisogno ma in questo momento rappresentano la vera emergenza. Perché? Perché c'è una guerra in corso da più di 5 anni, perché ne hanno ammazzati più di 20.000, perché si è perso il senso della misura, perché è diventata una guerra fratricida, perché ci sono migliaia e migliaia di orfani, perché ci sono bambini sopravvissuti ma traumatizzati, perché ci sono mille perché, mille risposte a questi perché. E' chiaro che non sono solo i bambini siriani i bambini che sono in stato di emergenza, diciamo pure che oggi rappresentano un po' la punta dell'iceberg perché ci sono diecine e diecine di conflitti in corso, ma in questo momento credimi Lino è veramente una battaglia dura riuscire ad aiutarli, dargli una mano insomma. Io poi ho sposato questa causa perché li conosco, perché amo i bambini ma soprattutto perché li conosco, perché so che sono bambini meravigliosi e perché sono bambini che sono riusciti a stabilire con i nostri bambini italiani un rapporto vero che va al di là di quello dell'aiuto economico. C'è uno scambio di disegni, uno scambio di informazioni, veramente si sentono un po' fratelli e amici e questa è una cosa meravigliosa. L'iniziativa ha lo scopo di poter dare la possibilità a più bambini di frequentare la scuola del campo profughi siriano di Atma e strappare così 400-500 bambini all'orrore dei campi in un paese dove 3 milioni di bambini sono senza scuole ed insegnanti. Perché è importante una scuola e qual è la situazione nei campi profughi in Siria in questo momento? La scuola è importante per tenere i bambini lontano dalle milizie, lontano dalla strada, lontano dal campo in se stesso, quindi dare un certo tipo di educazione. In Siria la situazione è gravissima, la gente continua a spostarsi e i campi continuano ad essere sempre più affollati. Di che cosa avete bisogno al di là della scuola? Qual è l'esigenza primaria? In Siria abbiamo bisogno di qualsiasi tipo di aiuto. Dobbiamo pensare che in questo campo vivono adesso 140.000 persone nei campi all'interno della Siria e hanno bisogno di tutto.